È stato siglato a Palazzo Lascaris un accordo di amicizia e collaborazione tra il comune di Reano in Val Sangone, provincia di Torino, e quello cinese di Hansu, località che recentemente ha ospitato il G20. L'accordo in cui è stata madrina la vicepresidente del Consiglio regionale si colloca all'interno di un più vasto progetto che comprende anche l'eccellenza italiana in Cina, per favorire rapporti di scambio nei settori economici, artistici e culturali.